Eccoci qui ragazzi con Alex Kidd in Miracle World Vi faccio vedere come evitare di affrontare l'ultimo boss Prendetevi il bastone che vi fa volare Qui siamo nell'ultimo castello Bisogna svolazzare attaccati al muro Altrimenti Lì comparirà dove c'è la principessa Comparirà l'ultimo boss E così avete evitato di affrontarlo Ormai è anche quasi pronto il long play Spero vi sia piaciuto Alla prossima